Ben ritrovati, oggi in primo piano il dopo voto in Campania, siamo con il senatore Enzo De Luca del Partito Democratico, intanto ben ritrovato, grazie per la sua disponibilità. Partirei da una prima analisi sul voto del Partito Democratico, la linea Skline funziona soprattutto nel Mezzogiorno, dove possiamo dire il centro-sinistra ha fermato l'onda lunga della destra. Qual è intanto la sua prima analisi? Oggettivamente è stato un risultato positivo, sia dal punto di vista del territorio cambano, per Partito Democratico è stato il primo, ma anche per l'intero Mezzogiorno e anche sul piano nazionale. E' avvicinato anche molto Fratelli d'Italia della Meloni rispetto al voto delle politiche. E' chiaro che adesso questa fase ha bisogno di affrontare la vicenda del ballottaggio, dei ballottaggi, e su questo penso che ovviamente nel risultato per la Campania in modo particolare, o come può essere per la Puglia, c'è anche l'azione del governo regionale De Luca, che credo insieme in un raccordo bisogna recuperare alcune realtà, alcune comunità, dove recuperare candidati del PDO del centro-sinistra rispetto alla destra. Perché questo è un tema centrale, non tanto per il governo, ma in modo particolare per la vicenda sul tema della rappresentanza, della legalità e del ruolo dell'istituzione. Anche perché, mi fermo, credo il dato che deve preoccupare tutti, specialmente quelli che hanno ancora appartenenze politiche, non il civismo, è l'astenzionismo. C'è un'indifferenza sul piano generale che rischia, se guardiamo il piano planetario, addirittura il sistema democratico. Ma sul voto, secondo lei, quanto ha inciso anche la preoccupazione rispetto all'attuazione di una riforma come l'autonomia differenziata, che rischia di allontanare ulteriormente il mezzogiorno dal resto del Paese? Ma io credo che ha inciso moltissimo, perché sul piano delle riforme, negli ultimi anni, ognuno ci ha messo un po' la pelle dal punto di vista politico. C'è il tema dell'autonomia differenziata e poi c'è quest'altra riforma assurda, che è in contrasto con la carta costituzionale, che è quella del premierato, cioè accendrare illudente i cittadini che decida il cittadino, non decida nulla il cittadino. Quindi si accendra questo potere e c'è una contraddizione in termini, credo che il cittadino l'ha accolto. Da una parte c'è la Lega che vuole fare riferimento all'autonomia differenziata, spaccando il Paese, dall'altra c'è una parte Fratelli di Dali con la Melone o la Centrara per avere, nonostante una maggioranza forte che ha sul piano generale. E qui c'è la sfida del Partito Democratico che crede all'azione della Sline, insieme ai riferimenti istituzionali e territoriali, come cogliere questa opportunità per recuperare quella comunità, anche sul piano di un'umanità che guarda a quello che muore, chiamavi bene comune. Qui invece mi sembrano tutti gli interessi dei singoli. E qui c'è una contraddizione proprio pazzesca, questo sul piano generale, nel Paese, nel Mezzogiorno, nella provincia di Avellino, ad Avellino. Tutti fanno riferimento a Papa Francesco. In quell'immagine suggestiva del Covid nessuno si salva da solo. Non c'è uno che non dice che è d'accordo, ma ognuno tende a fare da solo. E questa è la grissi vera dell'assenzionismo dove dobbiamo assolutamente recuperare, e lo ripeto per l'ennesima volta, questa benedetta carta costituzionale nell'articolo 49. Cittadino, istituzione e comunità politica. Il tema delle alleanze. In Campania il campo largo vince in maniera netta nel napoletano, pensiamo al caso di Castellamare di Stabbia. Può essere secondo lei un modello da riproporre in vista delle prossime elezioni regionali? Ma intanto io preferisco chiamarla nella tradizione il centro-sinistra complessivamente. Certo, là c'è anche un candidato bravo come vicinanza a Castellamare di Stabbia, però è una comunità sul piano dei contenuti e di progettualità da recuperare, dove il governo tende a rallentare ai fondi di coesione rispetto alla regione Campania per gestire quasi come un vatto privatistico e per utilizzare una serie di grandi progetti, penso alla modernamento delle redeiti, la vicenda dei rifiuti, il problema che segue, mio malgrado da una vita, dove ci sono molte opportunità per recuperare quelle direttive europee e recuperare un progetto di sviluppo che poi è allegato ad una straordinaria figura, come l'amico Davide Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, che tutti ricordano rispetto a Recova Rifambe e anche rispetto alle risorse che abbiamo a disposizione. E qui viene fuori la sfida dei partiti e delle classi dirigenti, non possono essere accordi fra i singoli, semmai per interessi fra pochi o addirittura di organizzazione malavitosa, non è questa la politica. E su questo credo che i cittadini dovrebbero riflettere un po' di più. Parliamo dei ballottaggi in Campania, c'è il caso Avellino, il candidato del Campolargo, Gengaro, dovrà vedersela con l'ex vice sindaca uscente Laura Nargie. Intanto qual è la sua analisi del voto del capoluogo, l'unico capoluogo di provincia alle urne in questo test elettorale? Ma diciamo che il risultato del Partito Democratico è stato assolutamente positivo, come sul piano regionale e nazionale, come nella tradizione dei guandannati partiti democratici. e la coalizione ha avuto un risultato positivo. Gengaro rappresenta una stagione che mi trovavo in quel momento ad essere l'ultimo segretario della democrazia cristiana, con il combianto amico Antonio Di Nunno, dimostrato da vice sindaca e poi da presidente del Consiglio, intanto di avere una linearità di appartenenza e una coerenza, che a mio avviso è un valore. Dove oggi quasi non c'è più. Noi abbiamo settori che sono nel partito, poi cambiano e rappresentano il rinnovamento. Ovviamente io faccio riferimento rispetto alla destra, non rispetto alle persone. E lì notiamo un trasformismo veramente raccapricciante, che è frutto dei tempi. E' quel tempo della complessità, idea dell'amico Mauro Cerruti, che o recupera la progettualità attraverso l'appartenenza e la cultura progettuale, o altrimenti ci sono due beneficiari, gli arrambicatori e le organizzazioni mafiosi, come diceva Pietro Grasso, che mi ha visto collaborare con lui come vicepresidente della Commissione Eco-Mafia. E su questo c'è un'azione che noi possiamo spendere, con gli amministratori dei giuditoriali, con le associazioni culturali, con gli altri partiti che sono nel centro-sinistra rispetto alla destra, ma anche col ruolo dei riferimenti più alti, la presidenza della provincia, la presidenza della Regione, in un confronto anche aspro col governo del Paese, ma sfruttando molto l'Europa, perché questo è un altro tema che è un po' scomparsa dalla scena. L'assenzionismo nel voto in termini generali. E' quasi nessuna iniziativa sul piano territoriale, dove se votate per le amministrative c'è stato un voto di più, ma non c'è stata una condizione di confronto, di discussione, e anche qui si è avuto un risultato positivo nella circolazione del Sud, tra quelli che sono stati eletti, anche il buon risultato che ha preso Comirpini, visto che mi fa una domanda di Avellino, Francesco Dodisco, insieme a coloro che sono stati eletti, da De Garo, Annunziato, a Topa, a Pina Picerna, a Ruotolo, però questo dovrebbe essere un patrimonio di confronto sul piano generale. E anche questo si riversa sulla vicenda del Comune Capoluoco, dove il 23 e il 24 abbiamo ballottato. L'ultima cosa, su Avellino, lei volevo chiedere perché secondo lei l'inchiesta che poi ha portato all'arresto dell'ex sindaco e all'avviso di garanzia anche alla vice sindaca Nargi, questa vicenda non ha condizionato il voto, non ha pesato poi sul voto. Perché secondo lei? Ma guardi, io penso che, ripeto, al di là delle persone, una cosa che già ho detto dal punto di vista politico, c'è un'indifferenza della comunità. Grammici, che non fa riferimento alla mia cultura, diceva odio gli indifferenti. E oggi la società vive questa transizione. A questa transizione aggiungi anche una disattenzione sul piano generale, anche rispetto alla denuncia che ha fatto più volte il procuratore della Repubblica di Roma, una società ferma, inerme, dove c'è presenza di illegalità e questo lo dovrebbero recuperare i partiti nelle loro rappresentanze tutti e credere che questa nella comunità è colto con superficialità. E questo non è un tema solo direttore per andare al governo della città, con Schemi, Auro, con Gengar, per la sua storia, per la sua coerenza, per la sua conoscenza dei problemi e per i suoi valori. Ma un tema che metta a rebendaglio lo stesso sistema democratico. Noi oggi nel contesto, noi facciamo parte dell'Europa, non è che siamo una zona franga, oggi è in discussione addirittura la democrazia sul piano mondiale e la prevalenza dell'uomo forte. La chiamano autograzia, ma in sostanza sono dittatori. Quindi credo che anche l'Ispina, con la sua tradizione, la sua storia, da Dorsa a De Sandis, per non parlare di gruppi dirigenti, cito da Demi, da Pianga a altri, devono recuperare quella condizione di un gruppo dirigente in grado di guardare a questa prospettiva per le opportunità che abbiamo. Io credo che a Gengara ha tutte queste caratteristiche. Ovviamente non da solo, insieme alla comunità, dell'alleanza e dei partiti, e mi auguro dei cittadini che l'hanno sostenuto e lo sosterranno, perché su questo ci giochiamo molto del nostro futuro. Fra una destra, a dire la verità, veramente assurda, anche abbastanza ipocrita, si nasconde di etarcivismo, e una coalizione di centro-sinistra dove il risultato nazionale e con destra europea è cimbone questa scelta. Ovviamente lo dico da uomo di appartenenza, non ho difficoltà a dirla, però mi permetta di dire con una linearità e una coerenza che oggi penso è molto nel centro-sinistra per la sua storia, rispetto a una destra che ha molti riferimenti a un passato che non c'è più, ogni tanto si nasconde e credo che questo lo deve valutare la provincia di Avellina e nella domanda che mi ha fatto, in modo particolare, la città capoluogo. Staremo a vedere. Grazie intanto per questa intervista. Abbiamo concluso. Io ringrazio per la parte tecnica Orlando Matarazzo. Grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie a lei.